Musica Avevano rubato alcune camicie all'interno del negozio alle mie spalle in pieno centro storico a Retino ci troviamo infatti in Corso Italia e poi si sono dati alla fuga ma non avevano fatto i conti con la tenacia della proprietaria che li ha inseguiti per alcune centinaia di metri e li ha fatti arrestare dalla polizia di Stato Il movimentato episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi la donna che si è immediatamente accorta del furto subito mentre stava inseguendo i due banditi si è imbattuta in una volante della polizia con a bordo il dirigente Luigi Stanzione nelle vicinanze del suo negozio La fuga dei malviventi è così terminata pochi minuti dopo quando gli agenti dopo un breve inseguimento li hanno rintracciati e bloccati in via Pietro Laretino per i due un uomo e una donna, entrambi i trentenni di origine venezuelana con numerosi precedenti è scattato l'arresto in flagranza di reato i banditi nonostante il tentativo di liberarsi di parte della refurtiva nel corso dell'inseguimento sono stati sorpresi anche con altra merce rubata, giubbotti e scarpe per un valore totale di circa un migliaio di euro i malviventi nel corso della mattinata infatti avevano messo a segno altri colpi uno in un negozio di sport nella centralissima piazza Guido Monaco noi abbiamo visto, si giravano, guardavano, avevano questo zaino noi comunque l'abbiamo seguiti e in un attimo che l'abbiamo persi d'occhio non l'abbiamo più visti poi oggi pomeriggio c'è arrivata la chiamata che hanno fermato tre personaggi dalla questura e ci hanno chiesto se della refurtiva era la nostra qui noi abbiamo fatto un controllo incrociato per vedere tagli o comunque gli articoli e abbiamo scoperto che tre di questi giubbottini erano nostri grazie grazie